questa è la mia ultima opera si tratta di stagni e ragni un'opera che ho vissuto molto e ho sofferto tanto e fa parte del mio percorso verso l'umido il periodo umido è quello che sto vivendo adesso perché stagni e ragni lo stagno è umido il ragno no il mio periodo umido è pieno di opere che io soffro molto è una ricerca interiore che io porto però verso gli altri in un modo che si vede vedete ecco io sono gnuster un nome che mi sono data un nome d'arte perché tutti gli artisti hanno nome d'arte anche gli artisti più noti e più famosi si sono dati dei nomi d'arte come non me lo ricordo nome di un artista che si è dato il nome d'arte però tutti gli artisti hanno un nome d'arte e i miei genitori mi avevano chiamato in un altro modo ma adesso non me lo ricordo mia madre si chiamava spadafora prima di sposarsi poi no d'altra parte io vengo dalla scuola di fiammetta trippa e di rodolfo rodolfo non me lo ricordo il cognome ma un artista molto noto molto conosciuto bassetto coi capelli a cresta non è che l'ha fatta apposta perché non aveva il pettine che aveva utilizzato per la sua famosa opera di rodolfo no perché io ogni tanto sento delle voci perché l'artista è spinto a creare dall'ispirazione dai ronzì che le voci gli suggeriscono io sento delle volte delle voci che devo tenere la testa dritta comunque rodolfo quello che ha un abbozzo sulla fronte che non l'ha fatta apposta però è molto conosciuto quindi stagni e ragni stagni e ragni al contrario di quanto possiate pensare stagni e ragni fa parte del periodo umido che è il mio approccio verso la natura perché la natura mi entra dentro e mi comunica come la natura che fa parte di noi e fa parte della nostra interiorità che si esterna verso gli altri verso attraverso le opere che si vedono io ho avuto altri periodi fondamentalmente due per adesso che io mi ricordi perché se a me mi danno due fustine al posto di uno io dico di sì e un altro periodo era si chiamava io ho avuto la natura